Salve a tutti, siamo alla quinta lezione di improvigazione tratta dal manuale. Costruzione di un brano musicale. Finora gli esercizi prevedevano che le due mani suonassero le stesse note. Ora costruiremo un brano musicale in cui le due mani suoneranno parti diverse. Inizieremo con alcuni esercizi da completare. L'esercizio lo potete vedere qui. Grazie. 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 Seguono altri esercizi che ci daranno modo di improvvisare alternando il lavoro delle mani. Consideriamo le due misure d'esempio come proposta alla quale seguirà una risposta affermativa o negativa. Le due misure di esempio in Re minore sono queste, per esempio. Sono due misure alle quali risponderemo. Esercizi. Proviamo a creare brani musicali di quattro misure usando gli ultimi due quarti, tre quarti e quattro quarti sugli accordi di Mi, Mi, Sol, Si e La. La, La, Do, Mi. Allora, in Mi due quarti. In Mi tre quarti. In Mi quattro quarti. Ora andremo a La minore in due quarti. In tre quarti. In quattro quarti. Muzica. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.